Salve e ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale. Quella di oggi è l'ultima giornata di campagna elettorale. Da domani silenzio stampa e poi domenica ballottaggio per avere il prossimo sindaco della città di Siracusa. Sentiamo il servizio. Ultime battute di questa tortuosa e lunga campagna elettorale. Domenica alle 7 infatti urne aperte fino alle 23 per dare vita al ballottaggio. In Elizza per la poltrona di sindaco di Siracusa, come sapete, Zecchia Paolo Reale e Francesco Italia. In questi brevi battute sentiamo com'è andata per ognuno di loro la campagna elettorale. Francesco Italia, ultime battute di questa campagna elettorale. Posso chiedere come è stata e che cosa si aspetta? Bella, una bellissima campagna elettorale, la possibilità di parlare di cose concrete, di temi importanti, incontrare tantissimi cittadini siracusane e siracusani che ci credono, che credono nella possibilità per la nostra città di brillare, di splendere come questa meravigliosa giornata di sole. Perché, vede, Siracusa è la città di Lucia, la città della luce. E io questa luce ce l'ho dentro, ce l'ho nel cuore e sto cercando in questa campagna elettorale proprio di diffonderla nei miei discorsi, nei miei incontri, in questi miei giri in bicicletta. Ma si conclude ovviamente con il silenzio elettorale e poi con il voto dei cittadini, cioè con l'espressione massima della democrazia. Quello che mi posso augurare è che ovviamente ci sia un risultato più semplice e meno sospetto rispetto al primo turno. L'ufficio centrale elettorale sta ancora esaminando i vari verbali. È l'unica città in Italia dove non si è riusciti ad avere il risultato del Consiglio Comunale in tempi utili. Siamo ancora in alto mare. Un confronto sulla situazione complessiva del sistema dei trasporti nel territorio siracusano. Per questo un incontro tra i sindacati di categoria A e l'assessore regionale Falcone. I segretari generali di Filt CGL, Filt Cisle e Will Trasporti hanno incontrato l'assessore regionale Falcone per un confronto sulla situazione complessiva del sistema trasporti nel territorio siracusano. All'esponente della giunta musumesci in particolare è stata illustrata la questione delle infrastrutture e dei treni a lunga percorrenza per i continui ritardi nelle partenze e quindi negli arrivi a Siracusa. L'assessore ha preso l'impegno di intervenire affinché l'attuale situazione non persista e che si regolarizzino gli orari. In merito alla richiesta di velocizzare il collegamento ferroviario Siracusa-Fontana-Rossa, il collegamento delle bretelle con il sistema portuale Augusta-Catania, lo sviluppo dello scalomerci Pantanelli, l'apertura domenicale del collegamento Siracusa-Modica visto l'incremento turistico della tratta e il decreto sullo ZES legato alla portualità nella zona sudorientale. L'assessore Falcone ha risposto che le infrastrutture e dunque anche i collegamenti autostradali sono assolutamente fondamentali e si sta intervenendo affinché il CAS ceda l'appalto di 80 milioni di euro. Si sta intervenendo anche, ha dichiarato Falcone, per la pulitura delle siepi spartitraffico lungo la tratta autostradale, specie di dove il fogliame ha invaso la corsia e ristretto la visibilità. L'assessore ha pure affermato che le province sono lente nel presentare i progetti per una serie di carenze, compresa quella di risorse umane, ed ha anche riferito che si sta intervenendo sulle strade provinciali. è stata firmata una direttiva da 35 milioni di euro e sul collegamento Siracusa-Fontana-Rossa vista la disponibilità della SAC a farsi carico delle spese per i bus navetta. L'assessore ha dato la disponibilità dei 5 milioni di euro già annunciati, così da poter indire la gara entro il 2018 e avviare i lavori al massimo ad aprile del 2019. I lavori sul collegamento Siracusa-Fontana-Rossa includeranno la fermata Bicocca. Inoltre ci sarà un aumento di circa un milione di chilometri treno. In merito ai trasporti pubblici locali, l'assessore Falcone ha posto alcuni problemi legati all'Ast, società che risulta impassivo e che non è facile rimettere tutto in sesto, ma che la regione intende provare ad adeguare il servizio ai cittadini, salvando anche l'attività lavorativa attraverso dei consorsi, che metterebbero fuori alcuni lavoratori ma salvaguarderebbero altri. Falcone ha pure riferito di una delibera per l'acquisto di pullman nuovi. A luglio una prima tranche, una seconda a ottobre. Il Palazzo della Camera di Commercio come contenitore culturale, questa è l'iniziativa avviata dall'Aggiunta che ha costituito un gruppo di lavoro, di cui fa parte anche il presidente di Casa Artigiani, Michele Marchese. Sentiamo dalle sue parole quale futuro per il Palazzo della Camera di Commercio. L'Aggiunta Camerale nell'ultima seduta ha costituito il gruppo di lavoro utilizzo della sede di Siracusa Concorso di Idee, che si occuperà dell'iniziativa prioritaria prevista nel programma di interventi relativa all'utilizzo dell'edificio dell'attuale Camera di Commercio. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal consigliere Riccardo Galimberti ed è composto da Vincenza Privitera, Michele Marchese e Paolo Lentini. La Camera di Commercio è proprietaria anche di un bellissimo sito in via Brenta e l'idea mia, spero di essere l'idea vincente, è di portare i servizi in via Brenta per tanti motivi, motivi di parcheggio, motivi di utilità, perché essere nei paraggi di Piazza Adda, via Brenta, eccetera, eccetera, rende più facile ai cittadini andare alla Camera di Commercio e che la Camera di Commercio non può essere il palazzo, deve essere dove vengono serviti gli utenti, gli iscritti registrati, esercendo attività, ecco il rea. E di conseguenza il palazzo cesterà e dobbiamo unirci per decidere cosa fare, ma non per venderlo, per rendere sempre un mondo di attrazione verso i turisti e verso i siracusani, in quel palazzo cosa andare a fare? Lo troveremo, certo non faremo un secondo museo, non ci abbasta il Paolo Rossi, non faremo altro, però che si facciano dei convegni, dei seminari, degli studi, che sia una università dell'attività economica, non una università degli studi, facciamolo. Noi ci mettiamo i mezzi, se qualcuno pensa che io sono avanti con gli anni, gli dico che per mia scelta non è stabilita la data della mia morte. Parliamo adesso dei precari dell'Asp, perché secondo i sindacati di categoria urge chiarezza. Precari dell'Asp urge chiarezza. E' quanto chiede il sindacato funzione pubblica della Will, che in una nota evidenzia che nulla è cambiato da quando il commissario Brugaletta e il direttore sanitario Madeddu annunciavano che il numero dei posti da destinare alla stabilizzazione, così come rimodulato, risulta adesso superiore rispetto a quello dei potenziali aventi diritto. Mentre a oggi, per i profili di ostetrica, tecnico di laboratorio biomedico e infermiere, l'azienda ha ritenuto di dover richiedere un'integrazione con curriculum e titoli posseduti, essendo le domande pervenute degli aventi diritto in numero superiore rispetto ai posti disponibili per la stabilizzazione. Il segretario generale della Will, Funzione pubblica, Alda Altamore, e il segretario territoriale e sanità dello stesso sindacato chiedono, prima della scadenza degli avvisi ed integrazione, gli atti che chiariscono il perché di tale discrasia negli interessi dei lavoratori, che appena sembrano aver concluso con l'agoniata stabilizzazione e la propria lunga via crucis lavorativa, si trovano di nuovo di fronte a ipotesi non comprensibili e assolutamente non spiegate ai propri rappresentanti. Forse non è ancora chiaro a qualcuno, concludono i due sindacalisti, che con i diritti dei lavoratori più deboli non si può e non si deve scherzare. E tra le pietre del Teatro Greco dal 29 giugno all'8 luglio i Cavalieri di Aristofane. Durante la commedia ci saranno attori di rilievo con la regia di Giampiero Solari. Sentiamo. Dopo tanti secoli torna sempre in scena I Cavalieri di Aristofane. Giampiero Solari la propone per il 54esimo Festival delle rappresentazioni classe. Sì, mi è stata offerta in realtà da Ninna, da Roberto Andò, e veramente io sono subito stato colgolato per la sua contemporaneità, per il fatto che i temi di questa commedia satirica, perché c'è una satira dentro, ma è una satira inquieta, è una satira piena di metafore, ma di metafore dirette. Non è la metafora che viene espressa nella parola e basta, ma la metafora che viene agita. Ecco, un'antica società quindi che si ripercuote nella società di oggi. Sì, si ripercuote in realtà, molti dicono che non si è mai cambiato, che la democrazia, che è una espressione altissima sui certi aspetti del poter far partecipare il popolo, delle scelte per guidare uno Stato, inventata poi nella Grecia, in realtà nella caduta del pensiero, oltre all'involgarimento di tutto quanto, che diventa la povertà, poi non è povertà di pensiero, è enorme. Dal 29 all'8 luglio, tra le pietre del teatro greco, cosa significa per lei, lei come attore, che è da sempre in questo campo? Beh, è una grandissima emozione perché è una novità assoluta per me che non ho mai avuto questo privilegio e quindi è un privilegio. Io sono molto contento, molto emozionato, è un impegno gravoso ma soddisfacente perché è una dimensione del teatro, del palcoscenico, le dimensioni della compagnia anche perché oltre ai protagonisti recitanti c'è un coro dei ragazzi della scuola che sono veramente pieni di energia. Quale personaggio ti hanno affibbiato? Il salsicciaio, il salsicciaio che è assolutamente non previsto perché viene candidato per usurpare il potere all'allora primo ministro perché l'ha corrotto, eccetera, il popolo decide di mettere un altro mercante, il salsicciaio. E poi c'è la lotta di potere tra il cuogliaio e il salsicciaio, è una bella parodia per la lotta del potere. Che tipo di linguaggio c'è in questa commedia? È un linguaggio molto duro, anche alcune volte volgare, però viene proprio da Aristofane perché lui faceva una parodia, prendeva in giro quelle che erano le dinamiche per la lotta per il potere e quindi usava, come facciamo noi oggi con la satira, usava anche del turpiloquio. Però insomma è tutto quando c'è voce e voce, dice Roma. Un invito ai cittadini siracusani e non solo, per essere sempre più presenti a teatro. Siracusani, venite al teatro greco, che è un tesoro prezioso che avete qua. Facciamolo vivere bene e non abbandonateci. Roy Paci, compaesano, cura le musiche dei cavalieri di Aristofane, però c'è anche una nuova esperienza per questo 54esimo Festival delle Rappresentazioni. Sarai pure attore. Sì, è un'esperienza nuova per quanto riguarda l'ambito delle tragedie, delle comedie greche, però effettivamente l'attore in teatro l'ho già fatto con altri amici che mi hanno fatto fare un ruolo anche un po' più improvviso. Era un teatro d'avanguardia, quindi ero molto più libero, c'era un minimo di canovaccio, però non dovevo attenermi a delle battute. Qui c'è un rigore molto più importante rispetto a quello che ho fatto in passato. Qui c'è la commedia. La commedia ha bisogno di rigore, ha bisogno anche di grande espressività e devo dire che sono di fronte finalmente ad una cosa che mi ha dato proprio la forza di ricominciare a studiare su certe cose. Perché questo è l'input più bello che quando fai un lavoro ti appassiona così tanto mi sento un po' debole rispetto a questa roba qui, quindi mi metto a lavorare, a studiare, a fare dei grandi sacrifici pur di poter portare a casa nei miei limiti quello che è la soddisfazione. Io sono anche un po' molto staganovista nel mio lavoro, lo faccio con la musica, quindi mi sembra doveroso approfittarne solo perché come ho già detto anche in conferenza stampa ho anche il grande privilegio in questo momento di lavorare a fianco di grandi giganti del teatro, del cinema, anche come appunto Catania, Pallofino, Gigio, sono veramente delle persone che mi stanno dando tantissimo, io sto imparando da loro. La commedia a te personalmente cosa ti sta lasciando come esperienza di riflessione? Mi sta illuminando su quello che è la realtà di questi giorni, cioè io attraverso uno scritto di 2500 anni fa sto capendo ancora meglio quello che è il sistema su cui poggia tutto, anche la nostra Italia, soprattutto questo, imparo attraverso questo scritto, attraverso questo quello che poi è anche la rappresentazione fatta da Solari, che è uno che vive ai giorni nostri, quindi ho imparato tanto da questa roba qui, e devo dire che forse ho in questo caso, grazie alla commedia, la capacità di non intervenire in maniera un po' accorata come io sono, io sono una persona molto così impulsiva, prendo a cuore le cose, a volte sono anche duro, ho trovato attraverso la commedia anche una capacità critica diversa, più matura, mi sta rendendo un uomo migliore. Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale, andiamo a parlare di alcuni controlli dei carabinieri di Floridia insieme all'Asp di Siracusa, che hanno eseguito diversi controlli negli esercizi commerciali della zona, focalizzando l'attenzione più sui panifici. Nell'ambito dei servizi ispettivi effettuati, i carabinieri e il personale dell'Asp hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all'interno di un panificio della città, a tal punto da determinare la chiusura dello stesso. E ci spostiamo adesso da Floridia, andiamo a Francofonte, perché i carabinieri hanno arrestato un catenese, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza. La giovane era appena uscita dall'ufficio postale ed era faccendata nella solita routine quotidiana, ma appena fuori dalla sede postale un uomo sconosciuto le ha sfiorato il braccio e poi le ha fatto degli apprezzamenti pesanti anche di tipo... ...ha affrettato il passo, ignorandolo, ma appena girato l'angolo, imboccando una viuzza per dirigersi verso casa, l'uomo 32enne di origine catanese, che nel frattempo la aveva seguita, ha approfittato dell'assenza dei passanti e l'ha aggredita alle spalle. cingendola con forza. Da subito sono state evidenti le intenzioni dell'uomo, che ha continuato a trattenere la vittima palpeggiandola ripetutamente. La giovane è riuscita a sferrare una gomitata al suo aggressore, a sfuggire dalle sue grinfie, correndo in fuga verso il centro. La ragazza ha intercettato immediatamente una pattuglia dei carabinieri e in giro nel territorio e quindi sono riusciti poi a sentire la sua dichiarazione e quindi avviate le indagini per individuare l'uomo. Parliamo sempre di cronaca, ma della guardia di finanza. I trafficanti si fingevano ricchi di portisti. Sentiamo. Le unità navali del gruppo aeronavale di Messina, della guardia di finanza di Messina appunto, hanno intercettato a 50 miglia a sud-est delle coste siciliane un'imbarcazione a vela di circa 12 metri con a bordo due sedicenti di portisti che avevano sbarcato la notte precedente a vendicare i 70 migranti di origine pakistana. La sinergia con il gruppo Interforze Contrasto Immigrazione Clandestina coordinato dalla procura di Siracusa ha consentito, attraverso la testimonianza dei migranti, di accertare che l'imbarcazione utilizzata per il trasporto fosse una barca a vela bianca con tendalino verde. Con i pochi elementi a disposizione, un elicottero della sezione aerea di manovra della guardia di finanza di Catania nelle prime ore dell'alba ha iniziato il pattugliamento lungo le direttrici di rientro verso la Turchia, individuando l'imbarcazione a 38 miglia da Capopassero quando l'autonomia stava per esaurirsi. Sentendosi individuati, gli scafisti hanno cambiato la rotta per far perdere le proprie tracce. Solo il successivo volo del mezzo aereo ha consentito di rintracciare nuovamente l'imbarcazione e orientare le unità navali. Il pattugliatore veloce del gruppo aeronavale di Messina, seguito da una vedetta del reparto operativo aeronavale di Palermo, ha raggiunto e abbordato l'imbarcazione a 50 miglia dalla Sicilia. Il riconoscimento degli scafisti è avvenuto da parte dei migranti grazie ad alcune fotografie scattate a bordo dell'unità navale e inviate a terra per il confronto. Ottenuto il parere favoreo della procura di Siracusa l'imbarcazione è stata condotta al porto di Augusta dove è giunta alle 6.30 di oggi. Gli scafisti al momento in cui sono stati fermati hanno dichiarato di essere ricchi signori, amanti del Mediterraneo, in giro di piacere e di avere smarrito documenti dell'imbarcazione nel corso di un presente controllo dell'autorità greca. Ancora pulizia straordinaria delle spiagge di competenza comunale. Questa volta tocca alla spiaggia di Morghella e siamo appunto a Pachino. Sentiamo. E' partita dalla spiaggia di Morghella l'attività di pulizia straordinaria delle spiagge di competenza comunale. Il primo intervento è stato di tipo manuale e successivamente verranno utilizzati mezzi meccanici. A giudicarsi il servizio per un costo complessivo di 38.000 euro è stata una ditta di Catania che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Le spiagge interessate sono dal lato ionico quelle di Balata e Marinella, Marzamemi, Morghella e Cavettone e Calafarina. Mentre nel versante del canale di Sicilia da Punto a Rio, Punta delle Formiche a Costa dell'Ambra, Concerie, Fondovacca e Granelli. Il servizio comprende il posizionamento di 30 piccoli cestini di rifiuti con i sacchetti per cui sarà previsto lo svuotamento giornaliero e saranno garantiti passaggi continui sia con i mezzi meccanici che in modo manuale. Oltre ad un intervento massiccio e iniziale di rimozione straordinaria di rifiuti seguirà un monitoraggio costante per garantire la pulizia degli arenili anche durante l'intera stagione. Quest'anno, ha dichiarato il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, siamo riusciti ad avviare ancora prima dello scorso anno la pulizia delle spiagge per migliorare le condizioni di decoro dei nostri meravigliosi arenili liberandoli da rifiuti giunti a riva durante le mareggiate invernali per escludere problemi igienico-sanitari. Rivolgo il mio appello ai cittadini e ai turisti dice ancora il sindaco affinché durante la frizione delle spiagge possa essere garantita la tutela dell'ambiente del nostro meraviglioso mare è patrimonio di tutti ed è nostro dovere preservarlo. E apriamo la pagina di arte e spettacolo perché questa sera continua la manifestazione sette note per sette giorni della scuola di musica Nino Cirinna quindi sentiamo nel servizio quale è il programma. È in corso di svolgimento la manifestazione che è iniziata il 18 giugno e terminerà il 23 all'antico mercato sette note per sette giorni un'iniziativa organizzata dall'Accademia delle Muse Scuola di musica di Nino Cirinna e la direttrice Mariuccia Cirinna in collaborazione con il comune di Siracusa e le feste archimedee. Le giornate si articolano con esibizioni che riguardano pianoforte, chitarre e arpe per quanto riguarda i concerti classici. Stasera invece è dedicato al carosello dello zecchino d'oro in cui si esibiranno i bambini solisti accompagnati dal coro delle voci bianche. Le sorprese per la serata sono tante e soprattutto ci sarà un ospite importante all'antico mercato Alessandro Gibilisco, il bambino che ha partecipato all'ultima edizione dello zecchino d'oro con il brano Mediterraneamente che ha riscosso grande successo. La manifestazione terminerà domani con la serata dedicata alle rock band in cui si esibiranno allievi dai 6 ai 19 anni che affronteranno repertori moderni all'interno dell'antico mercato in Ortigia. E continuiamo ancora con lo spettacolo saggio di fine anno anche per la scuola di danza Moving Time una sala piena a Città della Notte per ammirare uno spettacolo durato due ore e mezzo. Sentiamo. Tutti sul palco di Città della Notte con gli allievi della scuola di danza SD Moving Time con la direzione artistica di Valentina Romano hanno dato vita per il sedicesimo anno allo spettacolo della scuola preparato durante tutto l'anno accademico. Un saggio diviso in due tempi nella prima parte 30 le coreografie degli allievi dai 3 ai 13 anni che hanno composto lo spettacolo dal titolo La Bottega Fantastica. La storia di una vecchia bottega di bambole che alla chiusura del negozio prendono vita facendo sognare e divertire un bambino che rimane affascinato da questo mondo di giochi che prende magicamente vita con coreografie di classico moderno e contemporaneo. Le piccole allieve della scuola Moving Time sono state preparate da Valentina Romano, Jessica Germano, Stefania Bongiovanni e Salvo Alicata. D'effetto anche la scelta dei costumi che fra luci e volteggi di danza hanno ancora di più illuminato e colorato il palco pieno di allegria e giocattoli viventi. Il secondo atto dello spettacolo portato in scena dagli allievi della scuola di danza è tratto dal celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni I Promessi Sposi. Con la regia di Giovanni Munitto ha preso vita un musical che ha visto sopra il palco l'impegno di 20 ballerine e 10 personaggi protagonisti. La storia scritta dal famoso poeta milanese portata in scena dai giovani ragazzi dai 15 ai 20 anni che fra canto e ballo hanno allietato la piena sala di città della notte con un pubblico che si è emozionato ripercorrendo le varie vicissitudini della romantica e fugace storia di Renzo e Lucia interpretata dagli animatori dell'agenzia Grandi Eventi Animazione. Tutto bene un Elemento! Per potuto bene un concordazione e farò più orari Orari. Sì. Sì. Una grande festa finale che ha riunito tutti i 120 allievi della scuola Moving Time insieme alla loro insegnante, che con cuoricini, sorrisi e soddisfazione di tutti hanno chiuso l'anno accademico della ASD Moving Time, una scuola che trasmette e insegna l'arte della danza classica, moderna e contemporanea. Il nostro telegiornale termina qui ma vi ricordiamo che dopo di noi ci sarà speciale informare dedicato ai due candidati a sindaco di Siracusa, quindi restate con noi per chiarirvi ancora per poco le idee. Grazie per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie a tutti.